L'associazione sportiva dilettantistica San Filippo Runners organizza per lunedì 1 aprile una corsa podistica non competitiva molto particolare. La manifestazione denominata Metro Run prevede il passaggio da tutte le stazioni della metropolitana per un totale di 16,5 km. I più sportivi potranno affrontare l'intera distanza correndo ma chi desidererà accorciare il percorso potrà usufruire in alcune tappe gratuitamente della metro. Le iscrizioni si apriranno il giorno stesso dalle 7.30 alle 8.45 nelle stazioni Prealpino e San Teofemia Buffalora. Non vogliamo far vivere la città a tutti i cittadini, è una novità per la città, è un grande evento che ci proietta la città verso il futuro. È stata pensata dalla San Filippo Runners questa iniziativa per coinvolgere tutta la città ma non solo, anche le persone che vivono in provincia. Lungo il percorso saranno allestiti dei punti ristoro il costo dell'iscrizione di 4 euro con pacco gara, 2 euro senza riconoscimento. Grazie per la visione!